Inaugurato nell'aprile 2009, durante l'anno mondiale dell'astronomia, quello di Padova è un planetario digitale tra i più moderni d'Europa e tra i migliori per contrasto e risoluzioni delle immagini. Sotto l'innovativa cupola di quasi 9 metri di diametro, montata grazie ad una soluzione originale ed unica al mondo, si trovano 62 poltrone a schiena reclinabile, per consentire agli spettatori la migliore visibilità. Spettacoli meravigliosi e coinvolgenti. Uno strumento ideale e innovativo per la didattica e la divulgazione dell'astronomia, in grado di riprodurre in modo realistico e coinvolgente i corpi celesti e i fenomeni astronomici. L'eccellente qualità delle immagini e l'originalità delle presentazioni conducono lo spettatore alla scoperta delle più attuali conoscenze dell'universo, immergendosi nelle meraviglie e nelle emozioni del cielo stellato. Il planetario di Padova offre alle scuole uno straordinario strumento per la didattica e la conoscenza dell'astronomia, proponendo veri e propri spettacoli, ma anche percorsi personalizzati per gruppi di studenti di ogni età. Lo staff di professionisti del planetario, unitamente ad una commissione scientifica, è in grado non solo di personalizzare ogni spettacolo, ma anche di crearne di nuovi con tematiche astronomiche diverse. Planetario di Padova. L'emozione di toccare il cielo con gli occhi. Planetario di Padova. La Chinatura di appartenrici. La contarschola di Padova. it muovico. Grazie a tutti.